Abbiamo cercato di lavorare, dare continuità a quello che è stato fatto, fare qualche cambiamento però senza stravolgere più di tanto perché in 15 giorni non si può stravolgere un lavoro fatto di diversi mesi. Così l'allenatore del Bari Pasquale Marino. Marino in vista del suo esordio sulla panchina bianco-rossa sabato pomeriggio al San Nicola contro il Modena chiede ai suoi testa libera e lo stesso atteggiamento propositivo che ha visto nei primi allenamenti della sua gestione. Sono fiducioso perché ho visto che c'è da parte dei giocatori tanta voglia di fare, sicuramente loro sanno che possono dare di più. Chiedo di giocare molto in verticale con una certa intensità, mi piace sviluppare un gioco offensivo. Il neotecnico del Bari sembra orientato a schierare il 4-3-3, più importante del modulo però è come quest'ultimo viene interpretato dalla squadra. Per quanto riguarda i numeri 4-3-3, il sistema di gioco è statico, quando si scrive nelle formazioni però noi poi ci dobbiamo muovere. L'atteggiamento deve essere sempre lo stesso.